Prima di iniziare faccio, come tutte le volte, ma non tengo numero uno svolto che legge, il famoso disclaimer, cioè le immagini che vedrete in questa presentazione non sono tutte di mie proprietà, oltre alla mia associazione come ne sono prese, come potete immaginare, da questa cartina che è del Seicento, non l'ho fatta, porto bene i mili anni, ma non sono così tanti. Quindi sicuramente ci saranno immagini prese mediamente da internet. La prima immagine che vediamo è proprio questa del Seicento, questa è la carta del Clarice, un classico per chi studia la storia di Milano, e qui la vediamo nella sua parte est, adesso vedremo un po' più da vicino, un po' più in grado. Vediamo un po' che è una cartina da cui si vedono tanti nomi di morghi. Ecco, questi nomi di morghi li ritroveremo da mano che andremo a parte, perché lo scopo di questa presentazione non è di fare, come sempre capita, e in questi casi come spesso capita, una specie di ammarcord nostalgico come era bene a Milano una volta, che è pure l'epoca da parte. Ma cercare di trovare nella Milano di oggi le tracce della Milano di ieri. Questo è lo scopo della Milano di ieri e oggi. Quindi quello che io vi farò vedere oggi, in cui vi parlerò solo le cose che sono rimaste e quindi li potete tuttora andare a trovare, qualche volta magari anche andando a scovarne un po' degli angoli, ma ci sono ancora e sono veramente tanti, solo che sono mediamente nascosti. Si dice spesso che Milano, come una donna ricrosa, ha molte bellezze, ma anche nascoste. Ecco, è vero, Milano ha tante bellezze, però molto spesso sono state o belle o rese direi offensive, perché quando uno ha anche una bella cappelletta, penso quella di Castagneto, ma gli viene anche un po' di costruire sul palazzo dell'Inps che è alto, non decidiare. E' chiaro che la cappelletta non la si prende. Quindi ci sono tanti modi per annullare le bellezze. Purtroppo Milano, questo è abbastanza frazione dell'Italia, perché ha avverso tanti costi. Vessi affrontare cascine demolite per costruire i quartieri, il satellite, di dubbio gusto, e anche di dubbio di tante realità, dipendeva anche ai mancati servizi. Ma comunque sto eliminando negli ultimi trent'anni che ci prendete vista un po' tutte, quindi non sto andare oltre su questo. Vediamo invece che cosa possiamo ancora trovare nel tempo più antico. Allora, la strada di Gentile? Beh, la cartina è del Seicento, la strada di Gentile naturalmente non è del Seicento, la strada è romana e lo vediamo in uno dei toponi. Proviamo la strada e la vedremo nella prossima foglia, che si chiama Quinto Sole. Voi sapete che i romani davano i nomi ai cuochi, secondo la distanza dal centro, in calcolata di miglia, quindi Quinto Sole significa 5 miglia dal centro. E invece il dubbio, e io personalmente tropello per il nome, che anche il nome Vigentino venga dal romano Venti. Questo per due motivi. Il primo è che all'inizio il paese si chiama Vigentino e poi Viglantino, tanto che è il nome strada di Gentile. E poi perché mi sembra sorprendente che abbiano calcolato 5 miglia da Milano e in un posto che è a 3 miglia da Milano, lo chiamano Vigentino perché arriva a 20 miglia da Viglia, a modo semplice. Avrebbero chiamato terzo o quattro, quindi mi sembra di chi c'è questo etimo, infatti non viene confermato, però si trova anche questo tra le tante fonte, quindi ho voluto citarlo. Qual è la strada di Gentile? Dunque dovete sapere, ma forse lo sapete anche già, che la cattiva del Clariccio non è esattamente orientata allo sud del Stovas. Ma ecco, in spirito, tanto è vero che mi seguo a guarda dentro la strada di Gentile, quella crescita, quella porta, l'interno della porta di Gentile, e vedi giù così. Ma se voi guardate la porta per Cospieri-Promonti non è assolutamente orientata così, così come non è vero che questa è la via di Emilia che è orizzontata, e quindi la cattiva è un pochino orientata a scorta, ma visto che erano i 600, non lo vedo bene. Alcuni di questi toponi sono tuttora presenti, e poi li vedremo, vedete ad esempio che qui c'è il Figentino, poco dopo c'è lo Speria, qui sotto c'è il Puzzolo, lì c'è un uomino, eccetera eccetera, poi mi fermerò, andando fuori, perché poi finisce il centro abitato, non può dirlo, andando fuori troviamo che la prima cosa che si nota è che finiamo in mezzo ai boschi, questi disegni sono in boschia, perché ricordate che fuori da Milano non c'erano prati, c'erano moltissimi boschi, per il tutto c'erano i paludi, anche la barba, come è stato poi finito qua di Marcine, c'erano i boschi, come è testimoniato da alcuni toponi di tutto nel giro, come Nozelo, Nocetù, Rogoledo, Romoreto e Castagneto, Castagneto, quindi erano boschi di castagli, di querce e di luci. E in questi boschi ancora vediamo altri nomi che vediamo qua, come ad esempio il Quinti Solo, vedremo il Quinti Solo e il Quinti Solo, anzi Quinti Solo, anche questo lo anticipo, Quinti Solo perché appunto era Quinti Solo a 5 miglia e il nuovo originario era Quinti Solo, quindi Quinti Solo è diventato Quinti Solo per quel tipico fenomeno che capita negli anni. Ecco, su questi libri ovviamente non ci entreremo perché Noverasco non è più comune di Milano, quindi è proprio chiaro che la strada di Giacina poi va avanti fino a Paria, quindi non deve cadere, non posso andare fino a Paria con questo escluso, sia contento di arrivare al confine Comune di Milano, come vedrete ci riserverà abbastanza sorprese. Grazie.